Nasce dall'idea di dare voce tramite dei monologhi alle vittime che hanno subito queste violenze nelle varie parti del mondo, quindi faremo un escursus in Siria, in Europa e gireremo per varie cose, per chi ha subito la infibulazione, per chi ha subito la lapidazione, eccetera quindi sono dei monologhi toccanti e non abbiamo voluto edulcorare nulla anche perché l'argomento è molto forte, però diciamo alla fine uscirà fuori un messaggio di speranza che è la condivisione di questa iniziativa anche da parte di tanti artisti avremmo potuto fare lo spettacolo con solo tre artisti, abbiamo voluto invece 20 artisti sul palco perché vogliamo dare il senso della condivisione, quindi gli spettatori saranno molto coinvolti in questo viaggio che noi faremo, fra musica, arte, danza, esibizioni di artisti vari tipo pittori e via di seguito, quindi sarà una bella rappresentazione, una bella messa in scena per sensibilizzare su questo problema Il messaggio che vuole dare è un messaggio che vuole sensibilizzare quelle persone che purtroppo in me tuttora vivono di questi disagi Io penso, ieri mentre rileggevo i monologhi che andrò ad interpretare pensavo che nel momento in cui noi stiamo organizzando tutto questo ci sono persone che stanno vivendo questo disagio e persone che anche io purtroppo non ne conosco e che saranno anche presenti quella sera Le donne devono prima arrivare alla consapevolezza di dover denunciare per arrivare a questo io credo che si debbano andare a cercare quelle che sono le complessità comportamentali che portano a questa violenza, violenza che io credo sia non soltanto nei confronti delle donne ma può essere anche a livello generale, quindi allarghiamola tutte il concetto di violenza quindi alla denuncia ci si arriva ma io credo che la violenza è semplice da attuare e invece sono difficili, la complessità, le cause da trovare per giustificare questa violenza quindi quello sul quale io batto è sempre l'opinione pubblica è vero, bisogna sensibilizzarla ma per fare questo non bisogna mai mollare bisogna anche partire da queste cose, da queste iniziative che possono essere anche teatralmente accettate ma l'importante è partire, partire e non mollare e seguire sempre comunque un obiettivo